Ora intanto con chi stiamo parlando? Con il Presidente? Il Presidente della Sessione Veri che si regalia, Mario. Mario. Il cognome è Il Grande. Il Grande. È una regata zonale per il campionato italiano di laser, una delle classi, delle derive più sviluppate, più conosciute, più frequentate nelle nostre zone. Sono una trentina di concorrenti, giovani, tutti quanti bravi, ci sono due quindicenni, due sedicenni e noi come associazione verica che siamo rappresentanti della FIP, abbiamo l'assistenza in mare, il circolo nautico, la lega della madre di Senigallia, ci hanno prestato per loro delle banche, per la giuria e per il comitato di regalo. Avete incontrato un buon vento oggi? Il vento ci ha aiutato questa volta perché in qualche altra organizzazione nazionale il vento ci è mancato, ma a ottobre il vento ci deve essere. Perciò questa regata ci darà un primo classificato? Sono tre classi di laser, ci sono tre primi, tre secondi e tre terzi. Bene. E noi ai primi gli diamo il premio, a tutti quanti diamo una t-shirt dell'associazione e alla giuria diamo il vino, lacrima e verdicchio, lacrima di Morodalba e verdicchio. E la prossima quando sarà? Avete già un progetto? Primavera 2015. Primavera 2015. Signor Presidente io la ringrazio tantissimo. Venga più spesso perché noi abbiamo cat circle, win circle, classe A, 470 e 420. Benissimo, grazie. E vogliamo soci che vengono a contribuire con i soldi e l'attività sportiva. No, abbiamo una scuola di giovani molto importante, facciamo scuola anche ai ragazzini di 7-8 anni. Perfetto.